Cultura, turismo, enogastronomia e paesaggio sono queste le risorse che il consorzio Colli Fiorentini vuole valorizzare ulteriormente già dal 2022. Un nuovo impulso alla promozione che nasce anche grazie al protocollo d'intesa stipulato in Regione Toscana con i 16 comuni dell'area fiorentina. Un segnale davvero importante di come e quanto il vino sia connesse e collegato alla bellezza del nostro territorio. In Toscana non si vende solo un prodotto ma si vende un territorio. In particolare i comuni lavoreranno per promuovere al meglio il marchio Chianti Colli Fiorentini con contributi diretti legati a progettualità ed attività sul territorio. I primi due che possiamo sviluppare saranno uno di un'esposizione di vini qui a Firenze per una o due giornate da poter effettuare e l'altro è del rilancio di un progetto di parco cicloturistico del territorio dei Chianti Colli Fiorentini. È un consorzio che è nato nel 1994, nato dall'esigenza proprio per noi produttori di questa zona di sottolineare l'appartenenza del vino a un determinato territorio. Tra i comuni coinvolti è anche quello di Bagno Arripoli, capofila e promotore dell'iniziativa. Un territorio coeso, un territorio con tante similitudini, con la capacità di essere da una parte territorio del Chianti, dall'altra territorio fiorentino. Quindi un potenziale, una capacità di poter esprimere elementi di qualità, di sviluppo economico, di eccellenze unico sicuramente, non soltanto in Toscana ma direi senza mezzi termini nel mondo. Grazie.